buona sera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video parleremo di che cosa parleremo del primo episodio di un altro nuovissimo gioco di che cosa è ad saucer giusto è un gioco di calcio io ci ho giocato è bello e stupendo non so se a voi vi piacerà comunque io vi auguro una buona visione eccoci qui questo qui è un altro nuovo gioco si chiama ad saucer gol sì laudò gol si è fatto sì la partita la vingerò io 6 a 4 no dai perfetto vai prossimo ma che stupido ma davvero mi ha immobilizzato questo è il giappone vai vai ek la cosa è questa medicina Questo è sapersi difendere Cari ragazzi miei Dai Perfetto 8 a 2 Mi ricordo una mossa di questo qua Meidon o il chai Una cosa così Penso Visto Me la ricordo Perché ci ho giocato Domei do il chai La sua stessa medicina Quante risate mi faccio E si è fatto pure l'autogol Incredibile Vabbè 2 a 7 niente ci fa Basta che sono io in vantaggio Vai 9 a 2 Facciamo 10 No Ma come ti sei permesso Questo è americano E lancia i missili Se me lo ricordo bene Ma come si permette Bravo che ti fai l'autogol Ah Praticamente ha il potere Dell'invisibilità Ma che stupido Mi sono fatto l'autogol Eh Ho recuperato Vai Questo è forte Che razza di stupido Ma Forse è questo del Giappone Può darsi Sì 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 sicuro Vai Non ho capito Forse questo me la vince Come ti sei permesso Io ti ammazzo Dai Dai forza Vai Ho vinto Abbiamo vinto Questo qui Mi sembra Che dice Ice Tom Me le ricordo Le battute Dei giocatori Perché Ci ho giocato Una volta E ci rigioco Assieme a voi E ci rigioco E ci rigioco Ammazzo Ho capito Già mi ha fatto Quattro gol Questo qua E' forte Devo riuscire A arrivare A quel Benedetto Quattro Ok Ripartiamo Dall'inizio Mi ha congelato Mi ha congelato Infatti Ice Vuol dire Ghiaccio Sì Sì Sei fortunato Pecchetto 5 a 1 Vai Vai Di nuovo La doppia energia Bellissima Bellissima Questa è stata Questo evoca Il drago Il drago Raga Dragonja Evoca il drago Infatti Infatti dice quella frase Dragonja Stiamo attenti Qui Visto Quello era un drago Ma di fuoco Ma come Eh fatti L'altro gol Bravo Prima che ti riempio Di botte Giamma 3 a 3 Non è giusto Bravo L'autogol Così mi salvo Wow Gli ho fatto Me la sono Cavata Bella L'Italia Jack John Così questa Battuta Dice Ma come Oh Oh È troppo Me la è C'è Follow Ciao 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 Mi è riuscito a rifare la mia mossa Certo, grazie della notizia Mi questo qua è un duro La mossa Owasso non porta niente di buono Il Brasile, vediamo cosa c'è col Brasile Questo spara i fuochi di artificio Sono riuscito A contrastare la sua mossa Mai l'ho fatto con questo tipo di giocatore Siamo per lo più il pari Nooo Nooo Dimmi che non è vero La Germania, penso Sì, questo evoca I fantasmi E mi rimpicciolisce Mi pare che dice Già, già Da quel che ricordo così Visto E mi ha rimpicciolito Per giunta Bravo Imbecille Fatti gli autogol Questo voglio Non sono riuscito Non sono riuscito A fare la sua mossa 5 a 0 Che imbegile Però in tempo Questo chi è? Non me lo ricordo Non è vero questo lancia i missili da dove è stato proviene non lo so bella questo è stato però se è troppo vicino ed evoca la mossa troppo vicino intendo dire no vai la Francia questo evoca le pietre le pietre questo qua evoca visto te la faccio finire di fumare quelle sigla propriamente gliel'ho levata di bocca sono riuscito a difendermi wow parengio no 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 Sì L'ultima partita Con questo qua La Bretagna Questo qua mi pare che fa E' great Mi lancia Proprio dei missili Ora vedete Attenzione Questo Questa mossa La deve evocare Da vicino Vieni Forza Questa mossa Niente Direi che possiamo Concludere il video Qui va bene Beh ragazzi Spero tanto che questo video Viene di Ead Soccer Il primo episodio La prima partita A inizio Vi sia piaciuto Iscrivetevi al mio canale Mi raccontate un bel like E noi ci vedremo Domani In un prossimo video Ok Noi ci vedremo Alla prossima Ciao